Ciao a tutti, mi chiamo Lucrezia Lalli, ho 25 anni e attualmente mi occupo di restauro. L'approccio con l'arte l'ho avuto fin da bambina, spiando un gruppo di teatro che faceva le prove proprio nel cortile della propria casa. E lì è iniziato tutto. Ora sto facendo un tirocinio presso la bottega di arti applicate di Walter Zuccarini a Chieti, una bottega attiva da quattro generazioni che si occupa anche parallelamente da qualche anno di un progetto molto più ampio. Con questo progetto Zenor cerchiamo di valorizzare l'arte nel nostro territorio e stiamo cercando proprio praticamente di aprire un laboratorio di arti applicate e lo facciamo partendo dalla serigrafia. Con il mio ragazzo si chiama Luca Bruno e io ho Lucrezia Lalli, quindi potrete trovarci su Facebook e c'è anche una pagina Zenor su Facebook dove potete vedere i nostri lavori che cerchiamo di ampliare prossimamente. Grazie, ciao!